A Salerno a tenere banco è ancora la questione sicurezza. Da ieri è partito il dispositivo Interforce con controlli sul lungomare con il governatore De Luca che è tornato ad attaccare. Salerno è un'anomalia nazionale con centinaia di extracomunitari che delinquono in pieno centro, le parole dell'ex sindaco. De Luca ha rivendicato l'accoglienza all'insegna dell'umanità e del rispetto, ma ha aggiunto che chi viola la legge deve andare in galera. Ed ha ribadito che anche a Salerno, come accade già a Napoli, servono corpi speciali per contrastare lo spaccio e l'ambulantato illegale. Ieri il questore Pasquale Enrico e il prefetto Salvatore Malfi hanno ribadito che la città è sicura, ma che va rafforzato l'impegno per dare anche una percezione di tranquillità a cittadini e turisti. Intanto l'argomento finisce al centro del dibattito politico. Questa mattina Forza Italia ha organizzato un gazebo sul lungomare per affrontare proprio l'argomento sicurezza. Nel mirino del senatore Enzo Fasano le politiche del PD e del centrosinistra con una stilettata indirezzata anche al governatore De Luca. De Luca non ve lo devo raccontare io, usa terminologie forti, però è un po' di tempo che francamente alle parole roboanti mi pare non seguono fatti dello stesso spessore e tenore. Al di là poi di scacciare qualche Vucumpra che mette il tappeto fuori posto, poi sul piano proprio della visibilità della sicurezza c'è un problema, che è segnalato ovviamente dai fatti di cronaca, ma i fatti di cronaca recenti sono la spia di un disagio che chi vive in questa città conosce bene.